amore ti faccio vedere l'utente medio che commenta i miei post di instagram sei pronto guarda ecco questo è l'utente medio che commenta i miei post di instagram fedez ha preso il largo verso miami con i suoi adorabili bimbi leone e vittoria e sembra stia facendo un tuffo nel divertimento senza remore dopo giornate trascorse tra sabbia e sole con i suoi piccoli il rapper non rinuncia alla sua passione per lo sport e si dedica anche a eventi serali mozzafiato tra questi spicca la visita a un locale notturno dove talentuose ballerine incantano il pubblico con le loro esibizioni eccentriche sembrerebbe che fedez abbia messo da parte ogni pensiero legato alla sua ex moglie chiara ferragni concentrando tutte le sue energie nel godersi al massimo il suo tempo con i figli e nei piaceri che mi ami ha da offrire siamo curiosi di vedere quali altre avventure aspettano questa vivace famiglia